Amici stiamo con la regista Donatella Baglivo di Rai voglio mandare un saluto a Brunella Smile Forever Donatella puoi mandare un saluto alla pagina Brunella Smile Forever? Che è? Brunella Smile Forever che parla del benessere Aspetta che non la vedo In diretta stiamo, saluta la pagina Brunella Smile Forever Ciao Brunella Parla del benessere Ciao vi farebbe piacere conoscerti Poi organizzeremo qualche diretta con te sulla sua pagina Va bene? Grazie, ciao ciao Donatella Baglivo Vi la saluto E lei? Poi organizzeremo su a Roma una diretta dalla pagina di Brunella con Donatella Baglivo E' una regista famosa di Rai Donatella Quanti film hai fatto nella tua vita? Dillo Nella tua vita quanti film hai fatto? Un centinaio Un centinaio Ai festival, alla Rai In tutto il mondo, ho girato il mondo Ok, è una grande Però voglio sempre tornare in Italia Ciao Alla grande Sempre Un bacione grande amici Ciao ciao Grazie